Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di una nuova serie sul mio canale Sarà una serie in compagnia di altri youtuber come Giovanni Lob, Storm, Bimbo Minchia e altri Poi vedremo chi entrerà e chi no Loro però già hanno registrato il primo episodio, vi consiglio di vederlo sui canali che trovate in descrizione L'hanno già caricato, solo io l'ho caricato Ah e Storm ancora no Vabbè iniziamo, io inizio a prendere la legna perché sono appena arrivato, non ho materiali No, ma Storm l'ultima volta mi ha ucciso quindi capito, vorrei fare pure tutto da casa No, meglio così Sicuramente entreranno altre persone nella serie, adesso vedremo come organizzarci Poi abbiamo diversi progetti per le costruzioni eccetera Io sono tipo un cuore e mezzo, cioè tipo una minima botte nuove E ti uccido così ti riprendi la vita No, aspetta, aspetta Ah, una cosa, questi sono gli alberi nuovi Che sul mio canale, questi qui La caccia No, sì, l'ho visto, l'ho visto No, sul mio... Peccato che non mi ha registrato, se non la prima volta, tipo Non so che caspio era e quella lì, tipo non era il lagnuno Ah, che spettacolo Sul mio canale è la prima volta che si vede, sto lendo Eh, pure sorpresa per questo Eh, spero che piaccia agli iscritti questa serie Mi invito ad iscrivervi al canale degli altri due Sono il mio Ah, beh Ah, ecco Questo, diciamo, è il vero e proprio mondo nella 1.7 Comunque non mi preoccupate Questa serie, diciamo, quando la registro, la carico Si alternerà con Minecraft, non l'ho abbandonato Io volevo tenervi... Ci tenevo a dire questo Non ci tengo a dire che te che non è finita Oddio, c'ho mezzo cuore, no, 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 no È notte, ce l'hai in letto È notte, è notte Eh, no, ma abbiamo ammazzato, no, no Che ti sa, c'è un po' di gioco No, no, eh Non è bello così Qui c'ho mezzo cuore Non c'ho niente da mangiare Ci sono le pecore Se ti fai una spada veloce, ce la facciamo Se no, la spada Io c'ho gli arboscilli di acacia Così la ripieno Dammi, dammi Che cosa, qua? Che cosa? Certo, se è normale Se arrivano altre streghe Allora, ci scaviamo un buco sotto terra Non ti preoccupare Oh, dove se non è becco? Lì, su vicino alla mazulla montagna Allora io ho mezzo cuore, io rischio Cazzo uno zombie, cazzo con la spada No, no, non lo zombie con la pala Uccidiamolo Sì, uccidiamolo perché a me non mi ne butà io preparo un buco sottoterra ok vuole entrare adesso che ci... ok puoi entrare adesso se per semplice entra un gripper qua dentro sono morto ah sì facciamo i bucchi d'artipiso oddio scappa scappa ho riaperto il buco veloce no no oddio perchè mi sono spaventato che hai fatto lo sordo io no creeper creeper creeper, cioè io non posso fare nemmeno un minimo danno da caduta ho mezzo cuore eh dai veloce entra almeno tre pezzetti di lana, devo farcela dai un po' di lana, un po' tre pezzi di lana dai prendi la crafting eh? crafting table eh? prendimi dove sei? qua in un buco, ti ho messo anche il paracadute qua grazie, qua vicino al laghetto si, si, lì scendi dove? oh, ci sei passato vicino ma dove? qui, vicino al laghetto sono in un laghetto oh dove c'ha spiegato questo buco scusa? ti vedi? no ho fatto un giro intorno al laghetto eh, sto girando da un laghetto devo andare dentro il laghetto no, intorno intorno ma sono sul laghetto che dici? scusa ah, vaffanculo uscire ma esci, fammi vedere da qui qua dove cazzo sei tu? nooo ah, sei dall'altro laghetto dove cazzo sei tu invece? io non ti vedo eh? qual è il laghetto? dovrei andare cazzo, vieni alle piantagioni, veloce cazzo, sono morto dove sei morto? nooo ho perso tutto dove sei morto? veloce, se le trasporta mi sono, non ho che c'ho a death point mi si ricorda a modo vero eri lì per forza ci sono settato a due scheletri oh merda ma l'hai visto la mia regola? no merda, quanti cazzo di zombie porca puttana io non so nemmeno che sei stato preso l'altro giorno che non mi ricordo eh, no, mi tippo no mi tippo, sbrigate sto per morire sono morto sono morto sono morto che cazzo è qua? una croce ma vaffanculo dov'è la croce? lì sto vicino oh merda oddio 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 merda come l'hacker sto per morire eh una patata una patata io mi sono chiuso qua scoppia perchè non scoppia quando dico io? non entrare adesso non delle trasportarti guarda che non scoppia non vi teletrasportare non ora io abbiamo perso tutto io sto qui giungerò la mia roba provaci sono un'ultima vaffa cosa ti fa? oh andando eh oddio oh merda che cazzo fai? che cazzo ne so oddio prendimi la roba prendimi la roba stai protetto non ti preoccuparti eh sono Asmi che caspio ne so io ok aspetta mi devi tippare eh sbrigati tu mi devi tippare questo comunque era il posto iniziale veloci aspetta olle parcours sugli alberi madonna chi mi batte a me oh cazzo ok cazzo ce l'ha capito madonna ti hai presa le robe sono qua davanti a te li vedi oh merda che caspio fai che caspio fai che cosa fai che cosa fai che cosa fai che cosa fai madonna sa ma Sinafrano voglio Sinafrano dovevi teletrasportato eh adesso sei sei dentro la terra no com'è sei dentro la terra 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 no com'è dov'è le fatele dove cazzo stai lì mi lampi le germine ma te lo ricordi dove siete andati no oh mo muoio questo è per la tua fretta no? di uscire fuori si si ma non doveva non doveva essere subito notte ti ho detto io metti giorno ah si si che palla è la pioggia la tolgo qua c'è la vana rosa si si leva la leva dove sta tu ma che parkour mi fa nessuno queste cose ora qua c'è uno zombie mi sa che qua cazzo sto per morire e mettiti fuoco stupido zombie duvido scheletro che inizio inizio che cazzo non muoio sto per morire qua c'è un laghetto e qua c'è l'argillo eccolo sono andato ok ok merda no qua siamo arrivati siamo troppo lontani qua un attimo ho preso un botto di sabbia rossa ma hai trovato no non lo ritroviamo sentimi a me quasi sicuro al 100% la caccia la caccia boh eh non mi ricordo oh le canne da zucchero e i cactus non 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 ho capito che eh si ma non dobbiamo usare il tv trasporto ho capito però abbiamo iniziato non mi sembra mica tutto eh beh minecraft è giusto ma dove sei? sto prendendo cactus sabbia rossa e canne da zucchero non posso c'è la carne un po' eh io da un bel po' io sto già senza carne che palle che cazzo vorrei dirci su ma tu che stai prendendo? a me no tu sa che devi fare mo cerca di trovare degli alberi no devo trovare ma tu dove sei? sto nel bioma che bella la caccia eh si però non è che mi piace tanto a me la caccia per costruire no però no bella via lì no bella via lì eh si beh lagga leggermente eh la correzione no 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 l'ho tolto l'ho tolto l'ho tolto l'ho tolto carbone io non trovo più l'ho tolto cioè il canyon quando è raro ma quando lo trovi più hai sentito che cacchiette ha detto là? che? sul team speak che? che cazzo ne so la voce robotica no io l'ho disattivata la voce robotica dimmi come si disattiva ha detto user disconnected from your training quando? che? mo e chi si è disconosso? che ne so uos 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 minchia sto parlando in inglese no? che parla io sto qua dentro questi sono i canyon che no? mese mese a plateau no qua ci vuole parkour oh vi che cosa? io sto nella mese a plateau ho trovato una foresta io c'ho una foresta davanti aspetta mi trasporto non lo so si da veloce però che cosa? blz una foresta normale penso non lo so mi sa che no non muoio e si però si sa che ti dico muriamo aspetta muriamo così eh? dormiamo allo spa e vediamo eh? prima di morire dammi a me le tue cose che io rimango qui ah si questo era un pezzo di lago un pezzo di lago un pezzo di lago un pezzo di lago quindi forse forse ha colpito il terreno troppo forte pure sto per morire e gli alber non me li spacca che cazzo no com'è non mi da lago? com'è non mi da lago? com'è non mi da lago? eh eh a me è la stessa cosa ma dove non avevo neanche però? ah massimo quando si riconnetta il storm ci teletrasportiamo per me continuiamo così aspetta un attimo ci sono ritornato di nuovo al blu di prima c'è anche guarda no a me si è a me si è stoppata la connessione un attimo ok rieccoci scusate la brusca interruzione eh non lo so il programma con cui registro fa brutti scherzi ogni tanto ma raramente ma raramente eh dai però che palle guarda è gigante sto caglio ok che cazzo internet exception io io netty handler timeout un attimo guarda ma che palle però perchè mi hai tolto di nuovo al il costo eh lo so io vedo che cazzo posso 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 chiudere qua steam occupa la connessione eh grazie vediamo si eh si amaci amaci chiudere poi poi teamspeak ok tutto tutto ok eccoci di nuovo oh ma come mai si è usato presto all'appare del cibo è la 1.7 hanno messo anche i biomi no i biomi dungeon con lo spawner la sono rarissimi sono proprio rari ma che c'è da quello che ho dato eh vabbè è una novità bisogna dirlo ok adesso non l'altro oh aspetta che ho visto pure io ti vedo minchia sei lontano vai spacco gli alberi prendiamoci tenda legna così appena risorniamo ma io mi sto fatto un bel po' di di roba io non ho fatto niente io la casa me la costruisco vado tipo mi prendo un po' di materiale vado sempre in quel punto no io vado voglio farmela lontano no a me non mi piace quella storia con il nome di Luigi tu eh provaci forse ho creato tutto un casino provo un attimo dovete le buttele ci siamo di nuovo però prima girati ecco tutte le ecco bravo che ti devo dare ti do eh legno questo 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 basta questo tele si ma no prego beh si quindi eh adesso è not allora fai dobbiamo chiuderlo qua si si quindi per questo episodio è tutto vi invito ad iscrivervi al canale di di Giovanni e di di Luigi saluta ciao a tutti